buonasera salve a tutte ben ritrovate sul mio canale oggi vi do il buonasera il buon pomeriggio con questa cartolina d'acquerello disegnata da me altra mia passione poi in un prossimo tutorial in un prossimo video scusatemi vi mostrerò un po degli acquerelli che mi diletto a fare per lo più cartoline segnalibri vi posso fare anche eventualmente un tutorial per creare i vostri bigliettini da visita segnalibri dall'area mercatini niente veniamo al dunque di oggi allora cosa facciamo oggi video gufetto cosa vi ricorda oggi ci sarà l'estrazione del vinci una mia creazione una quindicina di giorni fa ho fatto un video creazioni del mercatino fatto a mano e chiunque commentava e metteva un mi piace aveva in assegnazione un numero i numeri sono questi me li sono segnati tutti bellini bellini ve li inquadro più da vicino con calma mi muovo per non fare danni perché io sono bravissima spero ci siano tutti penso di sì perché ho controllato 500 mila volte e quindi oggi estrarrò il numero scusate cerco di muovermi in maniera delicata per non essere maldestra come il mio solito come eduopo niente quindi estrarrò una di voi per vincere una mia creazione che potrà essere una creazione dei cabochon un po di materiale per creare bijoux poi ci metteremo d'accordo volevo dire a chi mi conosce che purtroppo oggi è andato in tilt messenger quindi per contattarmi ho qui su chi vincerà la creazione mi contatti o a gabriela punto casano chiocciolatiscali.it oppure gabriela punto casano 75 gmail.com o tramite facebook insomma io cercherò di contattarvi per comunicare chi è il vincitore però non so se riuscirò a farlo con semplicità quindi datemi in questo una mano voi io il premio lo voglio dare vi mostro anche questo che è un ciondolo fatto col decoupage e quest'altra parte invece è dipinta e poi ci ho passato sulla resina lo devo finire un mio ciondolo un autoregalo niente passiamo subito al passiamo quindi subito all'estrazione allora i partecipanti sono 32 ecco qui quindi io adesso scriverò bene scriverò 32 se ci riesco e aspettate il bello della diretta non so perché non va va bene ragazzi aspettate un attimo mi allontano ecco la pagina non risponde riprovare perdonatevi sto riprovando a ricaricare ecco qua scriverò ce l'abbiamo fatta 32 che è il numero dei partecipanti ecco qui vado numero vincente è 12 il 12 è asenia mo canu vorrei non sbagliarmi eccolo qui asenia mo canu niente asenia la vincitrice di questo di questa mia creazione di oggi sei tu niente il video come vedete è stato brevissimo carissima asenia mi compiaccio con te congratulazioni ne approfitto vi mostro un po dei miei ultimi cabochon piastrelle così che chi ha vinto oggi può anche eventualmente scegliere di delle piastrelle delle ceramiche dei cabochon infimo del materiale creativo tanto il genere delle mie creazioni le conoscete sapete che non ci sono problemi niente vi saluto con il gufetto carino della mia amica paola agneto lei fa le ceramiche e niente con la mia cartolina tanto adorato mare aspettami che tra un po arrivo auguro a tutti un buon fine settimana e se non dovessi girare altri video per prima dell'estate buone vacanze ancora congratulazioni un bacio a tutte ciao ragazze mi raccomando commentate mi fate sentire sola ecco il cellulare mancava ciao